eccoci tifosi rosso blu appassionati di serie c sono paolo il nostro consueto appuntamento lunedì da leoni ringrazio come sempre i cuori per essere qui con me ciao paolo buonasera a tutti ciao buonasera oggi siamo finalmente qui per analizzare una bella vittoria del potenza una vittoria sofferta dopo un primo tempo perfetto un secondo tempo deludente i primi 20 minuti ma poi il potenza riesce a chiudere la 3 a 1 quella freddezza che forse in altre occasioni era mancata diciamo il primo tempo sicuramente di ottimo livello dopo un avvio un po così tentennante in virtù anche di un cambio modulo c'era la novità di del sole dal primo minuto in coppia con caturano e di grazia poi dopo diciamo dopo i primi dieci minuti la squadra ha iniziato a macinare gioco ha trovato il gran gol di caturano il raddoppio altre occasioni che avrebbero potuto incanalare la partita in maniera diversa poi nel secondo tempo la squadra è calata dal punto di vista fisico agonistico del pinto era la prima partita dal primo minuto diciamo non ha retto il ritmo la ribia era fermo da qualche settimana per qualifica per precedenti infortuni poi mister raffaele come al solito ha letto bene la partita ha fatto i suoi cambi ha inserito tutti gli under che aveva a disposizione quindi la squadra ha cambiato passo ha cambiato ritmo è riuscita a non subire la pressione della gerbison che pure andata vicino al gol del 2 a 2 e ha avuto la grandissima occasione sono state un paio di occasioni veramente importanti per la gerbison tant'è vero che se il 2 a 1 momento delicato della partita è stata c'è stata questa situazione di hanno hanno pensato di di poter fortunatamente di poter di poter raggiungere il risultato del pareggio ma ciò nonostante per un pedo non hanno non hanno fatto il secondo gol comunque al di là di questo bisogna capire effettivamente quando si entra in campo c'è questa squadra chiaramente l'avversario c'è a momenti non non è che in 90 minuti può può star tranquillamente a subire è normale che la gerbi sono sul 2 a 0 peccato chiaramente il terzo il palo di grazie è stato determinante in quanto col col 3 a 0 chiaramente sarebbe stata diverse situazioni perché poi nel finale dopo il palo di di grazie il tiro di matino a doppia occasione è chiaro che il 2 a 0 non è un risultato chiaramente al riparo perché psicologicamente prendere il gol come è successo riapre i giochi da entusiasmo all'avversario però nella analisi complessiva della gara io credo che il risultato è giusto la vittoria sia meritata i cambi sono stati indovinati perché raffaello a un certo punto proprio per evitare di essere schiacciato ulteriormente inserito tutto tutti i ragazzi da schimenti volpe talia ha messo più agonismo più veloce car dei guardi entrata ha fatto fare il gol del tra uno per la bella ecco questa è una anche una vita sorpresa a un altro ragazzo che viene fuori e chiaramente verrà valutato per quello che può dare perché se ne parlava anche inizio torneo come un buon giocatore uno che potesse dare anche sì una tanta qualità uno dei migliori under 2003 nel panorama del sud italia così era stato definito diciamo che come abbiamo sempre detto quando lavori sui giovani deve avere anche la pazienza chissà che alla lunga si possa dire che poi non tutto era sbagliato come si è detto fino a qualche settimana fa no si è contestato molto l'operato della società di varrà probabilmente ecco se si avrà ancora un po di pazienza probabilmente si potrà dire che sicuramente qualche passaggio a vuoto c'è stato però sicuramente c'è anche tanto di buono che come abbiamo sempre detto squadra totalmente nuova con tanti ragazzi politica intrapresa dal presidente dalla società soprattutto valorizzare tutti questi giovani è normale che bisogna lavorarci non puoi pensare di risolvere tanti problemi in pochi mesi e ci vuole l'abbiamo sempre detto stare tranquilli e chiaramente fare tesoro di tutto quello che sta accadendo è normale da una fase di di stallo di risultati che non arrivavano ora praticamente qualcosa si incomincia più di qualcosa perché poi non dimentichiamoci in tre partite sette punti due vittorie un pareggio tutti scontri diretti scontri diretti quindi dalla classifica sta migliorando il gioco servizio qualche giovane si sta mettendo in luce quindi tanti dati positivi poi normali 20 minuti come dicevo un poco fa ci possono anche stare intanto perché la reazione dell'avversario sembra arrivare può sempre arrivare in questo momento poi è normale che quando poi incomincia a subire perché poi anche perché il potenziale offensivo della jackson comunque non era male non dico che di primissimi piano però in infantino e desena che è un ottimo reparto era andato già vicino al gol nel primo tempo con quella punizione che ha ricordato molto la punizione della gara di andata ci fece gol desena e la partita poi nella quale catturano sbagliò il rigore in maniera abbastanza grossolana e ieri catturano ha fatto un gol paragonato da molti a quello di van basten se un gol bellissimo gol perché cercato voluto non è di quei gol casuali ha cercato la porta e l'ha trovata volevo fare una considerazione paolo e nicola ieri per la prima volta mister raffaele ha schierato una squadra con pochi under in tre anni in partenza solo tre under e a dimostrazione che spesso non sono gli under che fanno la differenza in senso negativo la squadra l'abbiamo visto un po più compassata un po più lenta nella costruzione del gioco tant'è che poi nel secondo tempo ha avuto bisogno di freschezza atletica e con l'ingresso contemporaneo e con in campo sei under a un certo punto la squadra ha ripreso vigore ha ripreso ecco che dico forse ci vuole questo senso raffaele è stato di buona venuta nel senso che praticamente come tu dicevi hanno inserito un po di freschezza c'è tratta lì a schimenti trato volpe entrato volpe riccardi quindi nel momento in cui c'era bisogno di velocizzare di di essere un po più offensivi la la squadra è uscita alla grande il terzo gol poi è stato anche ad esempio a un certo punto anche escluso mattino non so se per l'ammunizione perché ha faticato però ha giocato con armini dietro a fianco a girasole quindi due under centrali insieme a rocchi diciamo è stata anche una partita giocata a scatti l'ha studiata bene l'ha letta all'altro l'ha studiata bene perché l'ha preparata con una squadra più di peso durante la partita poi nel momento in cui aveva bisogno di di gente che correva dei giovani nel momento giusto e poi anche un ottimo esordio da parte di rocchi nella difesa del potenza che sembra adesso avere una struttura ben definita sì sicuramente sì rocchi si è inserito bene come a di asmanovic perché mi è parso presente sulla fascia è stato sempre abbastanza anche propositivo è chiaro che poi prendi gol alla stessa maniera cross in aria stacco di testa prendi gol alla fine fai una valutazione diceva beh ma i gol li prendiamo sempre però non ci sarebbero i gol se non ci fossero le disattenzioni difensive per cui nel complesso la squadra ha rischiato poco se non in occasione ecco di quell'inserimento in aria dove il potenza rischiato di quel quarto d'ora lì il secondo tempo chiaramente è da da lavorare credo perché più che altro perché a centrocampo siamo venuti meno con la ribie del pinto che avevano speso tanto sì e quindi nel primo tempo il secondo tempo iniziato con la ribie del pinto un po forse stanchi e soprattutto del pinto alla prima partita titolare ha avuto questa grande occasione del pinto se onestamente bisogna capire nicola pausa del pinto ha avuto l'occasione per dimostrare o torna ad essere un elemento fondamentale nel progetto di di raffaele nel senso che del pinto ieri ha avuto la chance di giocare dal primo minuto probabilmente l'ha inserito in questo contesto anche perché giustamente in questa fase del mercato invernale vogliono anche capire a livello societale cosa intendono fare di questo giocatore che sicuramente un giocatore di qualità di esperienza quindi gli elementi gli hanno dato anche la possibilità una carta a cui potersi a cui poter giocare capire effettivamente il valore cosa può dare a me è piaciuto la ribie bello molto dinamico e anche lo stesso ragazzo dell'ex andrea ades mano di bravo cioè onestamente il primo tempo è stato giocato bene se fosse finito con altri gol con un risultato anche più più consistente fa capire effettivamente il gioco prodotto facevo con la considerazione perché se del pinto dovesse restare ed essere parte integrante del progetto con l'arrivo di cittadini con il rientro di steffè con sandri che ieri hanno fatto passare la sua assenza era un fortuna era un infortunio se qualora qualora dovesse anche restare sandri in questo centrocampo ai tante carte se potremmo avere tante soluzioni per cui ecco affiancando un attaccante o comunque acquistando un attaccante che possa essere non solo la spalla ma anche il sostituto natural di caturano è chiaro che nel girone di ritorno per quello che ci sarà da vedere sarà bellissimo per sperare caturano forse con quella doppietta e quel gol ha voluto forse dimostrare che non vuole o non ha bisogno di un aiuto ha voluto dimostrare che si può portare tutto il potenza sulle spalle allora noi il potenzio lo vedo impostato con un modulo a 3 avanti allora ecco la seconda punta non avrebbe senso nel momento in cui devi giocare con i due esterni larghi e caturano centrale perché caturano ha dimostrato da quando è arrivato raffaele e si è liberato un po da quel peso di dover rientrare a centrocampo utilizzandolo ai limiti dell'area di rigore in aria di rigore caturano è classico attaccante appena smesso di fare la boa e a girare intorno al campo è diventato il caturano che dovesse giocare come la punta vera è devastante qui io credo che caturano si presti meglio ad un attacco a tre e quindi questo eventuale acquisto di una seconda punta non vorrei che fosse una nostra considerazione ma che non è la stessa valutazione che fanno in società perché adesso ieri ha giocato del sole dal primo minuto il ragazzo non si discute di grande qualità cambio passo gioca a destra anche l'assist per girasole ed è un sinistro naturale un ragazzo che sa cerca l'assist è andato vicino al gol con quel tocco da calcio a cinque di punta salta l'uomo salta l'uomo quindi se anche del sole con la partita di ieri giocata dal primo minuto dovesse essere uno degli elementi portanti di questo nuovo progetto tattico e c'è da valutare bene l'acquisto di una seconda punta ma perché perché se poi andiamo a considerare i costi di questa operazione sono notevoli da quello che si sente parla qua di decine di migliaia di euro per per calciatori che dovranno fare 9 10 partite perché ne abbiamo già giocate 30 giorni di ritorno quindi diciamo che il camminato finisce a fine aprile e di maggio un giocatore da 100 mila euro investire 25 mila euro al mese di ingaggio per avere una seconda punta che poi non sarebbe nemmeno un titolare probabilmente sarebbe uno spreco io ecco ma parliamo forse questi colpi di mercato che i tifosi si aspettano i nomi li sappiamo tutti cupone murano forse sono nomi più propensi per giugno con una società che magari ha un obiettivo differente un saldo diciamo economico differente perché chiaro paolo che catturano sta giocando da sei domeniche con una diffida sulle spalle è evidente che lo dobbiamo dire prima o poi la gara la salterà capiterà l'ammunizione capiterà la simulazione verso fine partita quella quella diciamo specie di simulazione potrebbe essere già sanzionato quindi in quel caso non avresti non avresti il sostituto naturali però per una domenica puoi anche ovviare c'è alagna c'è questo ragazzo è arrivato io nel discorso azienda nel discorso programmazione nel discorso tattico parliamo da se parliamo da tifosi quindi diciamo da profani non farei una non sosterrei in questo momento momento un costo esoso ma poi per un calciatore che poi dovrebbe accettare anche la panchina un ruolo diciamo non da titolare se dovessero arrivare uno di questi giocatori c'è un giocatore che sarebbe sprecato ad avere un ruolo diciamo sporadico nel comprimare accetterebbe la panchina secondo un calciatore da centomila euro 150 mila euro a stagione accetta di venire a fare il comprimare a de grazia del sole c'è può spaccare anche lo spogliatore no è chiaro che cioè voglio dire tu dovresti tenerlo in panchina in situazioni sporadiche accetterebbe poi ecco questo ruolo abbiamo sempre detto anche da questi microfoni che il nostro grosso problema era trovare il metronomo di centrocampo e il difensore uno o due difensori che dessero più copertura la difesa mi sembra che con ade asmanovic e con l'ipotetico recupero di legittimo che potrebbe anche essere recuperato più in là io credo che la difesa l'abbiamo quadrata anche perché raffaele adesso anche con gli uomini che aveva ha ridotto tantissimo il numero dei gol che questa squadra subisce se pensiamo che nell'ultimo come attaccante si parla bene di questo ragazzo alagna facciamo dei ragionamenti da tifosi ha cercato da fare nicola quindi siccome io sono un tifoso come anche te un po' attempato e ne abbiamo viste tante ragioniamo in funzione anche di quello che può essere lo spogliatoio il fatto che un calciatore di un certo livello possa fare da comprimario ha del sole allora io ieri ho visto un del sole motivatissimo è chiaro è un ragazzo che ha ancora da limare qualche imperfezione a volte non scarica la palla non scarica la palla al tempo giusto però ha dei margini di crescita ma un giocatore di 32 33 anni a 100 mila euro stagione che viene a potenza a fare il comprimario è uno sborso economico forse notevole di inutile per quelle che sono gli obiettivi dichiarati dai dirigenti dalla società stessa ovvero una stagione tranquilla per cui io mi concentrerei sull'ingaggio di questo giocatore di centrocampo che pare certo si possa essere cittadini nel recupero di quei giovani che noi pensavamo che non potessero far parte di questo progetto invece raffaele li sta utilizzando tutti da schimmenti a riccardi ha riscoperto ha scoperto per range esterno arriva rivalutato armini all'occorrenza armini da sempre il suo contributo range ha giocato esterno alto e lui è un centrocampista ha giocato anche terzino difensore centrale quindi è un ragazzo che raffaele ha scoperto ha lanciato e sta facendo forse un percorso un po come quello di silvestri era stato l'anno di raffaele molto duttile giocatori che a raffaele piacciono e che servono la rosa così aumenta un bel po se non dovesse andare via nessuno adesso sulla carta recuperando anche sul piano fisico del pinto che ieri non mi è parso ha giocato dei segnali positivi dicevamo recuperi steffe recuperi la ribi al cento per cento quindi hai tanta disponibilità giochi a 5 centrocampi magari legittimo allora a quel punto a quel punto siamo alla terza di campionato nelle ultime tra quattro si giocherà anche il turno infrasettimanale quindi probabilmente anche un eventuale attaccante non lo avresti disponibile nella prossima e forse nemmeno per la gara successiva al crotone a quel punto valuterei bene costi costo beneficio quale potrebbe essere la soluzione migliore poi se alagna è un ragazzo conosciuto da raffaele su cui anche spendere una scommessa benvenga perché ho acquisito sto acquisendo la mentalità che il calcio con i giovani con qualche elemento di esperienza come cattura può dare i suoi frutti come catturano vedi girasole no allora facciamo un altro ragionamento abbiamo mandato via carnelutti e ma carnelutti faceva gol quattro gol girasole ne ha segnati tre e mattino due girasole è un under carnelutti non lo era quindi oggi alla luce di queste considerazioni quindi è stata una scelta buona non lo so dico probabilmente a girasole costa anche meno di quello che sarebbe costato i carnelutti e carnelutti è andato via anche perché non è stato accontentato dal punto allo stesso girasole si è ripreso bene perché non dimentichiamoci nelle prime giornate lasciava un po desiderare un girasole come altri del gruppo che sono stati anche responsabilizzati dal ruolo che hanno avuto ma è questo il percorso che ho fatto con i giovani dare responsabilità dare fiducia e poi quando esplodono ed emergono così è un vantaggio per poi fermarti non puoi fermarti a una valutazione di 56 gare sui giovani ecco su su sul nostro portiere gasparini su girasole si è puntato ad occhi chiusi lo ha fatto il precedente mister lo sta facendo raffaele devi accettare che qualche volta si può sbagliare si può sbagliare quante partite devi crederci perché se no non hai futuro io credo che su 21 partite praticamente hanno esordito quasi tutti comunque adesso prima di sentire il corrispondente pietro di paola da messina per darci una infaregnatura generale di quella che è anche la zona play out si lo abbiamo chiamato paolo perché ascoltare da messina la voce del corrispondente di questo messina che sembrava fuori da tutti adesso invece aveva una vittoria tra una vita erbo vittorie consecutive è andato sul mercato ascoltiamo anche da messina quali sono gli sviluppi leggerei i messaggi che abbiamo in chat ovvero rocco romaniello che dice buonasera condivido l'analisi di mariana mi è piaciuto il primo tempo con di grazia dall'inizio e poi l'innesto di riccardo e schimenti e ho dimenticato di esaltare l'euro gol di caturano francesco zitarosa ci dice buonasera a tutti ieri grande gol di caturano mister raffaele sta facendo un miracolo non capisco chi lo critica ha perso solo una partita da quando è arrivato a potenza se stava con noi dalla prima giornata eravamo stabilmente nei playoff un saluto da roma ermando zaccardo ci dice ragazzi cittadini un bel centrocampista ed arriverà a murano e lorenzo telesca che salutiamo ci dice ieri un gol che non si vedeva dai tempi di carlos se ieri ci sono stati tanti spunti tante note positive tanti spunti ieri proprio in nei distinti quando entrato in campo riccardi tra lo stupore generale perché riccardi ha giocato uno due partite l'estate subito non so se aveva giocato solo il secondo tempo e non fu manco perché forse pauretto però un tecnico che mette in campo il riccardi e probabilmente ha fatto delle valutazioni tecniche tattiche ha usato ha usato perché a un certo punto talia volpe riccardi girasole armini schimmenti nel momento in cui la gelbison sembrava potesse in qualche modo crearti problemi allora significa che dietro c'è un lavoro sui giovani importante ma tant'è vero che l'azione come dice ermanno cittadini un ottimo giocatore sì le notizie che provengono da trieste sono ottime ma cittadini ha trascorsi anche nel campionato di serie c quindi chissà se arriverà murano come dice ermanno anche se murano si sa dell'interesse ovviamente sia del potenza ma anche del piccolo e su murano le considerazioni che abbiamo fatto sono quelle dell'ingaggio dello sborso economico e quelle che abbiamo già visto l'ingaggio da capire però è chiaro che se la valutazione tattica e tecnica e che murano può dare un contributo per un vento alla causa vadano bene le scelte tecniche del dell'allenatore perché noi ripetiamo possiamo discutere da tifosi per sensazione però poi cosa c'è nel progetto di una società di un tecnico non lo sapremo anche perché poi raffaele proprio aveva provato murano ai tempi come esterno di attacco quindi potrebbe essere un ricambio di di grazia dello stesso urano dai tempi del potenza dell'eccellenza lucana era devastante era devastante ed era un giocatore che partiva largo con inserimenti c'era la fascia fece 30 gol si fece solo lui c'era anche però era devastante poi ha preso il volo ha fatto campionati importanti sicuramente murano può fare anche la seconda punta intesa come esterno di un attacco a tre allora oppure in qualche caso giocando a due avanti caturano e murano sarebbero effettivamente così vai a togliere qualche giovane però io faccio sempre questa considerazione se mister raffaele opta per l'acquisto di murano sicuramente lui è più comandante di noi e quindi avrà fatto per cui noi ragioniamo adesso anche sulle ali di questa bella partita di ieri sul fatto che del sole finalmente l'abbiamo visto al primo minuto e mi è piaciuto tantissimo anche perché è un ragazzo che prende anche delle responsabilità spesso cerca l'area di rigore si vede assolutamente che un ragazzo giovane che ha voglia di fare soprattutto con un grande margine di miglioramento si vede che ha fatto poi parla anche con i tifosi dal campo si interlocisce con la linea laterale interagisce con i tifosi diventa un beniamino e si vede comunque che ha fatto delle giovanili squadre importanti dalla formazione che ho poi avuto modo di parlarci personalmente a dire la verità si avvicinò a lui per chiedermi alcune considerazioni è un ragazzo simpaticissimo si tiene tantissimo alla maglia accetta senza nessuno senza discutere tutte le volte che la decisione di metterlo in panchina quando entra il più delle volte si è sempre fatto trovare pronto ha fatto assist importante ma ieri anche il tempo sulla destra ha creato poi comunque ricordiamo è un ragazzo che l'anno prossimo sarà proprietà del potenza perché c'è un prestito con obbligo del potenza quindi un ragazzo su cui si deve puntare per cui valutiamo adesso abbiamo queste quattro gare che secondo me possono dire molto su quello che potrà essere il proseguito del campionato sì sicuramente perché adesso possiamo chiamare il corrispondente da messina quindi completo questa prima di sentire il corrispondente io lancerai il primo spot pubblicitario eccoci ci siamo adesso attendiamo la risposta della buonasera buonasera ciao pietro pietro buonasera come come va innanzitutto a messina dopo questo doppio successo ebbene diciamo che due settimane fa stavamo legge quindi diciamo ecco auteri che ha lasciato la panchina del messina che passa per uno dei guru del calcio professionistico di serie c di questo girone ha lasciato il posto è raccita ha messo le basi per compiere un altro miracolo come hai visto questo messina nelle ultime due domeniche cambiato o questi due successi sono il frutto semplicemente del lavoro precedente no è cambiato tanto ma sono cambiati anche gli uomini la partita di ieri con la vita erbese è stata vinta senza ombra di dubbio grazie agli innesti arrivati dal mercato invernale kragel al di là del gol splendido che forse avrete visto si è diventato dopo pochi minuti dal suo debutto con la maglia rossa il leader di questa squadra si percepiva in modo palese è uno dei grandi problemi di questo gruppo era proprio la mancanza di temperamento di personalità che crea che l'ha da vendere discorso identico per peres che pur non avendo avuto grandi opportunità offensive ha aperto spazi per per i compagni ma si è visto che messina finalmente poteva contare su un vero centravanti mentre questa era una lacuna che in tutto il giorno di andata è emersa con con forza e poi fu magari il portiere che ha messo in mostra un po di parate decisive che anche lui dal punto di vista del carattere ha dato qualcosa in più a questa squadra quindi senza nulla voler togliere a raciti che pure ha messo del suo dobbiamo evidenziare come gli innesti sul mercato decisi dal direttore sportivo al nuovo direttore sportivo lo giudice in queste due partite siano appassi determinanti naturalmente ancora è prestissimo quindi per rispondere alla vostra domanda difficile dire se si riuscirà a vista il miracolo dell'anno scorso si è un campionato ovviamente abbastanza difficile sappiamo che può variare in bene e nel male in pochissime giornate però è un messina da quel poco che si è visto in queste due giornate che finalmente ha dei leader come detto anche tu con un crack che dimostra di essere un giocatore di categoria tra che oltretutto anche a foggia fu autore di un gol di primissima fattura quindi un calciatore secondo me l'innesto di fumagalli in porta come uomo di personalità il leader di quel gruppo può essere quella miccia in più per far risalire una piazza come messina non so se la pensi anche tu così è giusto per parlare di fumagalli vi racconto questo aneddoto lunedì sera lo discorso è stato ospite la mia tradizione televisiva io dicevo ieri nel dopo partita che lui li ha cominciato a vincere la partita con la vita del suo ex squadra che aveva lasciato da pochi giorni nel senso che ha creato pressione nei confronti della sformazione avversaria denunciando nei limiti soprattutto dal punto di vista della personalità ha provocatoriamente promesso un premio partita ai suoi compagni una pizza per tutti qualora la squadra avesse vinto quindi anche dal punto di vista della gestione di un ambiente non facile come quello di messina in questo particolare momento ha mostrato di essere un autentico leader quindi in messina diciamo che la sua partita con la viterbese ha cominciato a vincerla con quelle dichiarazioni di fumagalli che poi hanno trovato di valta nazionale perché sono state riprese da sky da 11 da tutto ci con tutto quello che ne consegue ripeto anche in termini di pressione sull'avversario e in partite delicate come quelle di ieri in scontri diretti sappiamo quanto l'aspetto psicologico sia determinante certo e pietro che viterbese hai visto una viterbese che si è piegata ad un messina più forte o hai visto una viterbese in diciamo in una fase delicatissima difficile perché perdere uno scontro diretto in casa contro il messina sicuramente fa male la viterbese ritieni che abbia ancora i mezzi per dire la sua per potersi riprendere in questo torneo ma guarda il calcio lo sappiamo è uno sport episodico la viterbese nel finale del primo tempo di ieri in un paio di occasioni ha fallito due gol quasi fatti in un caso è stato bravo con magari nell'altro l'attaccante ha sparato incredibilmente fuori da posizione molto favorevole però nel complesso dobbiamo dire che il messina ha meritato abbondantemente la vittoria perché la viterbese passa intanto molto molto in difficoltà in difesa e poi non ho riscontrato quella reazione che mi aspettavo dopo il vantaggio dei peloritani sinceramente dopo la sconfitta in una gara così delicata in casa prevedo tempi duri almeno a breve termine per la formazione nazionale mentre il mercato del messina sarà ancora ricco di novità pietro ma il messina deve fare sicuramente qualcosa in difesa ieri nel primo tempo è andato in diversi casi in difficoltà e poi insomma ha fatto una cessione quella di camilleri ci sono c'è un giocatore titolare fino a ora angileri che ormai ha concluso la loro stagione per infortunio quindi sicuramente in difesa dovrà lavorare si parla anche di un esterno io penso un altro paio di operazioni almeno verranno chiuse poi molto dipenderà da quello che si riuscirà a fare in uscita perché la rosa comincia a essere particolarmente ricca e quindi dispendiosa per il presidente sciotti e mentre per le altre società i qualche notizia di mercato che potrebbe interessarci qualche movimento importante soprattutto in coda a questo campionato pietro io credo che per i movimenti importanti bisognerà aspettare la prossima settimana a questo punto perché chi aveva fretta il caso del messina di chiudere almeno qualche operazione l'ha già fatta a sto punto io penso che per risparmiare qualcosina e provare diciamo a chiudere operazioni che veramente possono garantire il tasso di qualità le squadre che lottano per non retrocedere soprattutto attenderanno gli ultimi due giorni quindi a mio avviso ancora un po di tempo passerà pietro secondo te alla luce dei risultati che il messina ha avuto in queste due giornate un'andria che adesso è ultima quindi un'andria che si dovrà muovere per forza sul mercato secondo te qual è adesso la squadra che rischia di più la retrocessione vedendo quello che sarà il mercato o quello che è l'ambiente non lo so è chiaro che in questo momento dopo queste due vittorie sulla carta in teoria messina come dire la l'etichetta di condannata a morte per il momento è riuscita a staccartela di dosso però è troppo presto io ho visto un po di calcio di questi anni e so che tutto ancora può può accadere è chiaro che il fardello psicologico di una sconfitta casalinga come quella di ieri per la vita il bese non dico potrebbe essere fatale ma certamente sarà difficile da superare quindi tra le tre in questo momento al di là dei numeri vedo un po più in difficoltà la vita il bese ripeto mi sembra ancora troppo presto per spinare questi giudizi allora pietro ti ringraziamo per essere stato con noi e soprattutto ti liberiamo perché sappiamo che hai la tua trasmissione quindi un saluto agli amici di messina in bocca al lupo di sentirci con un finale se diciamo sorridente per entrambe le tifoserie di messina e potenza ebbene messina una piazza importante ed è un lusso averla in questa categoria poi il prossimo anno pietro con il catania che tornerà in questa categoria una serie b sarà un campionato ancora più interessante a catania a catania che notiziai da catania perché ci sono dei numeri addirittura stratosferici si parla di presenze allo stadio e qui parate a quella dei grandi stadi inglesi di serie ma è vero ci sono numeri da record perché tantissimi anni di sofferenza dal punto di vista economico finanziario da parte del catania questa iniezione di liquidità importantissima posta in essere da questo nuovo proprietario per l'ira italo stadiano di origini catanesi ha generato grosse aspettative a ragione per gli investimenti che anche fuori dal campo si stanno facendo parlo di impianti sportivi parlo di marketing di merchandise quindi è normale che ci siano quei numeri perché per lì onestamente ha un piano di sviluppo del catania e di tutto quello che sta intorno al catania che lusingano la gente della città ecnea quindi penso che siano numeri che rispecchiano insomma il futuro prossimo del club rossotico ovviamente nel calcio bisogna vincere quindi la scalata verso categorie più importanti non sarà semplice ma intanto diciamo che il catania quasi vinto il proprio campionato con un giocatore antico quindi un primo passo è stato con più bene pietro ti lasciamo la trasmissione grazie come sempre per la tua disponibilità e a risentirci a presto una serata pietro grazie grazie quindi non pensavo catania è praticamente ha quasi archiviato questa stagione ma con dei numeri ecco l'assurdo del calcio noi la serie c per salvarti e non riesci a mettere insieme 2.000 spettatori poi fai la serie di a vincere e quanti ma c'è il cibale è pieno praticamente è un po come l'anno primo anno del pieno ma oltretutto alcune presenze domenicali allo stadio di catania sono superiori a quelle di squadre di premier league inglese per cui dove il calcio non pensavo che aveva creato entusiasmo giustamente della piazza di catania come il primo anno del potenza verso la risalita in serie di dove gli spettatori erano ma questa è la contraddizione che in via vevi lo stadio quasi sempre pieno poi fai la c e diciamo che la categoria a questo punto vale meno dell'ambizione l'ambizione elevata purtroppo sono i risultati che portano la gente allo stadio vedi il potenza ha lanciato i mini abbonamenti i prezzi più vantaggiosi ma c'è poco da fare abbiamo sopra le due mila sicuramente un buon numero però se consideri che di domenica alle 17 e 30 non gioca la serie a è una serata d'inverno potrebbero starci un pubblico era una serata ideale per giocare al calcio per assistere a una partita significa che c'è poco da fare la gente va allo stadio quando la squadra il risultato quando diciamo che adesso forse le motivazioni ci saranno perché un potenza che finalmente è in zona playoff un potenza che è decimo in zona playoff momentanea perché dipende da queste giornate io proprio andrei a leggere classifica i risultati ma prima a lanciare il nostro ultimo spot pubblicitario a Eccoci, ci siamo e quindi andrei a leggere i risultati della 22esima giornata di Serie C Girone C partendo da Virtus Francavilla-Foggia 1-0 per il Francavilla Un Catanzaro che vince la terza partita di fila per 1-0 a Latina Picerno che si fa recuperare sul finale e pareggia 1-1 con il Giuliano Viterbese-Messina 3-1 per il Messina Cerignola che batte 2-0 l'Andrea Un Cerignola che si proietta in zone alte della classifica Poi il Potenza che batte 3-1 la Gervison Avellino-Monopoli pareggio a reti bianche per 0-0 Poi una Juve-Stabbia che cade in casa per 3-1 contro il Monterosi Che era anche senza Costantino, ovvero il suo numero 9 Poi abbiamo un altro pareggio per 0-0 che è Taranto-Turris E manca all'appello Crotone-Pescara match di cartello di questa sera alle 8.30 Alla luce di questi risultati, non contando Crotone-Pescara con una gara in meno Abbiamo una classifica che vede un Catanzaro primo a 60 punti su 66 disponibili Quindi una squadra che sta ammazzando il campionato Prova a rispondere a questa squadra il Crotone che ha 51 con una gara in meno Poi abbiamo il Pescara a 39 sempre con una gara in meno A 34 abbiamo il Cerignola, al quinto posto abbiamo la Juve-Stabbia, al sesto il Picerno, al settimo il Giuliano a pari merito con Foggia Avellino, al decimo a pari merito Potenza, Virtus Francavilla, Latino e Taranto Poi abbiamo il 14esimo posto il Monopoli con 27, 25 per il Monterosi ed entriamo in zona play-out con la Gelbison a 24 La Turris a 22, Messina che da ultima sale a 18esima, Viterbesi a pari merito a 19esima e ultima Landria a 16 punti Quindi è una classifica che rimane compatta nelle zone medio-basse della classifica Con però poco distacco dalle prime Però il distacco da quelle della classifica di sotto si sta aumentando per alcune Diciamo, si stanno staccando Andrea e Viterbesi perché non riescono a infilare un paio di risultati utili La Viterbesi con questa sconfitta in casa con Messina si è messa davvero male Però la partita di questa sera tra Crotone e Pescara è una partita importante Perché è vero che usiamo dire il Catanzaro ha ammazzato il campionato Ma al momento la differenza tra Catanzaro e Crotone sta solo nello scontro diretto che il Catanzaro ha vinto Perché il Crotone sta tenendo un passo estremamente positivo Per cui se stasera dovesse riuscire a battere il Pescara e restare a 6 punti dal Catanzaro Non credo che il Catanzaro possa cullarsi eccessivamente Anche perché il Crotone sul mercato è intervenuto in maniera seria, forte Anche in previsione di un eventuale play-off da seconda classificata E dicevo, importante la partita di oggi Perché se il Pescara dovesse uscire sconfitto da Crotone Si aprirebbe una lotta anche per il terzo posto Che fino a qualche domenica fa sembrava irraggiungibile Il Pescara aveva 10, 11, 12 punti dalla quarta Con la sconfitta di oggi, se dovesse perdere a Crotone Anche il terzo posto lascerebbe aperte tante porte per tante squadre Ma poi il Pescara è in un momento delicato Il Pescara è in un momento delicato Non capisco se non potendo arrivare al primo posto ha mollato psicologicamente Però oggi la gara di Crotone è difficile Se il Pescara perde anche oggi Il Cerignone a 5 punti Ripeto, si apre la lotta per il terzo posto per molte squadre Quindi i giochi non sono assolutamente chiusi Né in coda né in testa Crotone e Catanzaro sarà una lotta a due E se il Crotone tiene fede alle aspettative anche di questo calciomercato Credo che abbia fatto interventi mirati E sarà dura E sarà dura purtroppo anche per il Potenza Perché adesso due trasferte Foggia inviperito L'altra sera ho ascoltato alcuni commenti da Foggia Qualcosa di inqualificabile Per cui non so Ecco la squadra del Foggia Che tipo di reazione potrà avere Ah perché poi il 29 punti in un momento Molto No no il Foggia con Gallo Con Gallo sembrava infaminato Ad una risalita piuttosto Ci sono delle sconfitte consecutive Adesso la sconfitta col Picerno I tre gol col Cerignola La sconfitta di Francavilla A Foggia sono inviperiti Mi auguro che noi non siamo la vittima No no ma il Foggia mercoledì gioca una gara di Coppa importantissima Con la Juve Stabia Contro La Juve Stabia No credo contro la Juve La Juve 23 23 del girone Sì Juve Under 23 dove c'è il compagnolo E quindi adesso a Foggia sono tutti concentrati Su questa gara di Coppa Perché come sappiamo la vittoria in Coppa Apre le porte alla semifinale dei playoff Per la Serie B Quindi diciamo questa sconfitta ulteriore del Foggia È stata ammorbidita dal fatto che Forse le attenzioni erano tutte concentrate Su questa gara di Coppa Ma se anche in Coppa il Foggia dovesse fallire Troveremo a Foggia domenico un ambientino Particolare Abbastanza caldo Sente male Dovremmo stare anche attenti noi tifosi No 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 ricordo la partita dello scorso anno Che il Catanzaro vinse a Foggia 5 a 1 Con tre invasioni di campo Sì per provare ripetutamente a colpire Iemmello Iemmello che si presentò in maniera anche un po' garibotti Sono abbastanza agguerriti a Foggia Troveremo però il calcio è bello anche per questo Puoi andare anche a Foggia Ed essere l'artefice del colpo finale al Foggia Quindi il potenza il vantaggio che ha in questo momento È che con la vittoria con la Gelbison Si è messa in una situazione Non dico tranquilla Però di serenità mentale Per cui queste prossime gare Potranno essere giocate con meno apprezzione Il Foggia sta sicuramente anche cercando di rinforzarsi Il Foggia ha perso giocatori importanti Che hanno lasciato Foggia E la tifoseria Proprio questo faceva notare Più che andare a potenziare la squadra Sarebbe stato meglio conservare qualche giocatore Che il Foggia aveva a disposizione È un Foggia che ha preso Berretta Dal Cittadella che era proprio ex Foggia Una punta Però secondo me l'attenzione principale del Foggia Sarà rivolta alla gara di Coppa Perché la Coppa a questo punto Con dei playoff in una posizione non discreta Quindi la fatta da semifinale Se dovessi vincere No, se batte la Juve Passa al turno successivo Però la vincente della Coppa di Serie C Sì, accede come se fosse quarta Come fu per la Griglia E quindi giustamente è una buona situazione È chiaro che se questo si dovesse verificare Quindi che il Foggia dovesse vincere la Coppa Italia Nel nostro girone L'accesso ai playoff sarebbe a 11 squadre Non più a 10 E quindi si andrebbe nel girone Dobbiamo sperare in un sacrificio Dobbiamo sperare che il Foggia Vada a giocarsi questa gara E avevi stanco con noi E che arrivi scarico E soprattutto giocando con più titolari possibili A questo punto E avrei molto stanco No, perché l'ambiente a Foggia Io ho seguito la trasmissione di Sera da Foggia Davvero Lì le ambizioni sono sempre elevate Hanno l'attaccante di colore Ogunseye Che praticamente è diventato L'abbiamo umiliato Hanno parlato di giocatori Che non sono degni di vestire quella maglia Che Ecco La diversità della piazza No Noi al di là del Mormorio Foggia è una piazza Presante Per cui Speriamo di trovare un Foggia 20 anni fa E anche però Non credo che questo sia un vantaggio Per i giocatori del Foggia Avere tante pressioni E sapere di non poter sbagliare Diventa anche Sì, sì La mancanza di serenità Può essere importante Però Andiamo a giocarcela È chiaro che Noi abbiamo quattro gare Le prossime Che sono davvero Un banco di prova Perché poi abbiamo La doppia trasferta di Foggia E Crotone Poi l'Avellino in casa E la trasferta di Pescara Che bisognerà verificare Come esce da questo Mercato di Chiamiamolo Come anche l'Avellino Di riparazione E poi ci sarà il derby Il derby Vabbè Quello ci proiettiamo dopo Paolo Nelle quattro partite Che andremo ad affrontare Considera che nel girone di andata Giocandone tre in casa Quindi Foggia Crotone e Pescara Crotone e Pescara in casa Prendemmo due punti Due punti Due pareggi Quindi nelle quattro partite Che andiamo ad affrontare Nel girone di andata Noi prendemmo due punti Se ne riuscissimo a prendere Uno in più Tre o quattro punti Quattro punti Diciamo che il finale Diciamo le ultime dieci gare Dieci undici gare Alla fine Potrebbe essere per potenza Un Un percorso Sarebbe molto interessante Perché poi incontreremo Tutte squadre Alla nostra portata Il Crotone Poi lo incontri A fine mercato A fine gennaio Il Crotone Lo incontri tra due domeniche Poi c'è il turno infrasettimanale Di mercoledì Con l'Avellino Il 2 febbraio Alle 21 E poi andiamo E lì le squadre sono completate E diciamo che lì Tireremo una linea Paolo Secondo me Dopo la gara di Pescara Tireremo una linea Per capire se il Potenza Sarà ancora oltre La zona play out E quali squadre Alle nostre spalle Avranno quasi mollato La presa Perché se la Viterbese E l'Andrea Che oltretutto L'Andrea pare Non intervenga sul mercato Perché Il passaggio societario Che doveva esserci Non c'è stato Quindi I numeri parlano chiaro L'Andrea Sembra Sembra in grossa Seria difficoltà Lo stesso la Viterbese Quindi Capiremo secondo me Dopo la gara di Pescara Che futuro ci aspetta Adesso Se Vogliamo ascoltare Enzo La luce di questo In vista della partita Importante col Foggia Sentiremo Enzo Con delle statistiche E prima però Lanciamo la sigla All'angolo dei cuori Ci siamo Quindi adesso sentiremo Enzo Cosa ha da dirci Su questa partita Delle statistiche Che dal punto di vista Offensivo Miglioreranno Vediamo adesso Pronto Enzo Buonasera Ciao Buonasera a tutti Ciao Buonasera Allora Cosa hai studiato Questa settimana Settimana scorsa Ti abbiamo Primosso Ed ha portato i suoi frutti Con un potenza Che ha vinto Adesso Cosa Cosa ci dice Dunque Cominciamo Con qualche dato Così Allora Per quanto riguarda Il girono di ritorno Siamo alla terza giornata Quindi Una mini classifica Diciamo che In questo girono di ritorno Tolto il Catanzaro Con tre vittorie su tre Noi siamo secondi Con Cerignola A sette punti In queste prime tre giornate In attesa Del Crotone Di stasera Per vedere Se il Crotone Dovesse vincere Va a nove punti Anche il Crotone All'andata Dopo tre Dopo tre partite Avevamo tre punti Quindi Adesso Ne abbiamo fatti sette Quindi diciamo Una partenza migliore In questo Girone di ritorno Siamo Il sesto attacco E la tredicesima Difesa Una curiosità Foggia e Potenza Hanno Gli stessi gol Fatti E gli stessi gol Subiti Sembra Sembra strano Ma è così 28 gol fatti E 31 subiti Tutte e due Lo scorso anno Eravamo a 19 punti Dopo 22 giornate Quindi Abbiamo nove punti in più I 28 punti Di oggi Li avevamo Pensate un po' Alla trentesima giornata Avevamo 28 punti Quindi a campionato finito Quasi 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 a fine campionato Alla trentesima Adesso siamo alla 22esima Quindi Insomma Diciamo che Il cammino Al momento È abbastanza Positivo Poi Qualche numero Su Caturano Visto che Ieri Con La sua doppietta È arrivato A 10 gol Dunque Lui È Il Maggior Il miglior Marcatore Del potenza In serie In serie C Al momento È libero Con 12 gol Poi c'è Franza 11 E qui Nè adesso Caturano È decimo Diciamo che Potrebbe Scusate A 10 gol Potrebbe Potrebbe diventare Il miglior Marcatore Del potenza Poi c'è Un giocatore Forse Nicola Potrebbe Aiutarmi Che Ho scoperto Un certo Alberto Corucci Non so se tu lo ricordi Sì negli anni 70 69 70 Che nel 69 70 Fece 14 gol Diciamo Per andare Per andare Molto Buon attaccante Poi Lo prendemmo Se non sbaglio Anche da una squadra Di serie B C'era un attaccante Forte Sì Fece 16 gol L'anno prima E poi 14 Fece a poter Però Fece Un ottimo Campionato Quell'anno Mi ricordo Perché quella C Di tanti anni fa Benché piccolo Ce l'ho sempre in mente Quindi diciamo Caturano è al quarto posto In questo momento Perché c'è Corucci Al momento Al momento Sì Considerando Corucci Diciamo È quarto Diciamo È a quattro gol Da questo Da questo Corucci È Corucci Diciamo che Stiamo parlando Di campionati Professionisti Serie C Di serie C Serie C Neanche C2 Serie C O C1 A questo punto Speriamo che Caturano Riesca a fare Il meglio possibile Diciamo un po' Al momento Al momento È al quarto posto In classifica C'è Iemmello Con 13 Ci sta Patirno A 12 C'è Biasci Anche del Catanzaro 11 E poi ci stanno Caturano E la coppia Chiricò Gomez Del Crotone Con 10 gol Facciamo un'altra Considerazione Caturano Non ha realizzato Calci di rigore Ne ha avuto uno Senza rigori Ha avuto uno A Pagani con la Gelbis L'ha fallito Però i 10 gol Sono 10 gol Mentre Iemello E Biasci Penso Anche Patirno Una buona metà Le ha realizzate Sul calcio di rigore Sì Forse se Se togliamo i rigori Magari sarà Se non primo Sarà secondo Diciamo che un Caturano Che è quarto Nella classifica generale Sia del Potenza Che nella classifica Marcatori E speriamo Che entri Il podio Ma ora sarà Motivatissimo Facendo I due I due Mancini terribili No abbiamo avuto Ultimamente I due sinistri Di Franza E di Caturano Che stanno Che stanno Andando bene Forse il piede sinistro A noi ci fa bene Sicuramente E poi c'è questo Attaccamento Proprio Quell'attaccamento Che alla maglia Era mancato Dall'era Diciamo di Franza Caturano Si rivede Perché un Caturano Che ogni gol Esulta Con la squadra E poi Va sotto la No ma al di là Di questo si sacrifica Anche per la squadra Corre anche a volte Su quei palloni Dove una punta Di quel livello Spesso non corre Cioè Anche quando Deve andare a pressare Sul rinvio del portiere Molti cacci piazzati Conquistati In situazioni delicade Come diceva Paolo Se giocasse Da punta vera Con un esterno E gli arrivano I cross Lui farebbe Secondo me Il gol Ma come tutti La pensiamo Farebbe Gol a grappoli Con Raffaele E' iniziato a giocare Diciamo che se forse Ci fosse stato Raffaele Dalla prima E non Siviglia Quei due tre goli In più Li avrebbe già fatto Cioè Sprecarlo In quel lavoro Vedi Vincenzo Un'altra considerazione Un'altra considerazione Sempre su Caturano E diciamo che È alla terza È alla terza Miglior Performance Diciamo Della sua carriera Lui Fece il miglior anno A Melfi Nel Nel 2014 2015 Fece 18 gol L'anno dopo A Lecce Ne fece 17 E L'anno scorso 10 A Cesena Quindi diciamo Che adesso Ha eguagliato I gol Dell'anno scorso A 10 Diciamo Che noi Ci accontentiamo Anche di 16 gol È la sua terza La sua terza Prestazione Migliore Da quando Lui Ha fatto Una presenza In Serie A 14 in B Con un gol Poi A Considerando Anche quest'anno Siamo A 320 Partite In Serie C Con 106 gol Questa è la ventunesima Questa giocatrice Che ha la media Di un gol Ogni tre partite Che per un campionato Di Serie C È ottimo La media Molto Sì esattamente Sono quasi 13 gol A campionato Poi sono annate Dobbiamo solo sperare Che quest'anno Ho visto Quando è andato Sotto la curva Insomma Con i tifosi Ci sta Feeling È diventato Un beniamino Quindi chiaramente L'attaccamento Che era mancato Adesso Si è rivisto E forse La scelta di Raffaele Non è stato Tanto il metterlo punta Ma forse Dagli la fascia Da capitano Farlo sentire Si sente Molto integrato Chiaramente La fascia da capitano E chiedergli Meno Sacrificio Meno sacrificio Nella tre quarti Più presenza Però per fare questo Raffaele Ha dovuto Cambiare atteggiamento Tattico Tattico E Chiaramente Adesso Le palle di Di Grazia Del sole Lo stesso Adiasmanovic Spesso Cerca Caturano in aria Quindi Ecco che Il giocatore Viene sfruttato meglio Per quelle che sono Come il terzo gol di ieri In effetti L'affinità Fra Di Grazia E Caturano È innegabile Di Grazia Il sesso assist Che fa per Caturano Ed è una coppia Sono quei giocatori Che hanno nel DNA Ecco Ieri la cosa Che ha sorpreso È stato l'esordio Di questo Almeno Non so se L'esordio Di questo Riccardi Aveva giocato Che poi Ha iniziato Ha iniziato L'azione Del terzo gol Che ha saltato Due tre avversari Ha dato la palla Di Grazia Dato la palla Di Grazia E poi di Grazia Quindi È stata Un buon ingresso Quello di Riccardi Raffaele Questo è giusto Questo che dici Perché Sottolinea proprio Quanto Raffaele Faccia bene Sia nel pregare E durante Era un Raffaele Che ha sbagliato Io sono rimasto sorpreso Ieri Durante la partita Perché ho detto Ma non l'ha mai messo È strano Che Ecco allora Era lui Che diceva Ma fanno Che ieri Enzo Che eravamo Di vicino Con altri tifosi Pensavo Madonna Ora Entra Sto ragazzo Che sa Non ha mai giocato Poi fece Una presenza Tempo fa Non è che fu Granchese Non sbaglio Poi Chiaramente Dice Madonna Chissà che Però Dobbiamo ricrederci Ha fatto due Tre cose belle Sì Due tre discese Ieri Che è stato pure Atterrato Diverse volte Quindi Lo stesso Lo stesso Volpe Increscendo Schimenti Cioè Si sta lavorando Un ottimo Gruppo Faccio un'altra Considerazione Sul discorso Dei giovani Che abbiamo Aperto Abbiamo assistito Sabato Anche Con il Francavilla Contro il Francavilla Della Primavera 3 Di Nocerino E anche lì Un bel vedere Con i giovani 4-5 elementi Un bel futuro Per il potere Cioè C'è quel ragazzo Floridi Ha fatto un gol Su punizione Gagliardi Gagliardi Anche Scogna Miglio A Centro Un ottimo gruppo Di ragazzi E un ottimo Mist Si si Una squadra Che gioca Uva ha parato Anche rigore Ieri Uva ha parato Un rigore E ha fatto Altri due interventi Uva Che nel gruppo Prima squadra Da un anno e mezzo E quindi In primavera Riesce a fare Quello che impara Dagli allenamenti Diciamo Non ci facciamo Prendere dall'entusiasmo Perché abbiamo Vito Con la cia Però Credo che Si stia mettendo Sui giusti binari Il percorso Che abbiamo Intrapreso È un anno Secondo me Questo In quale Tutti Dovranno Fare Esperienza A partire dal Presidente Dallo staff Che ha creato Perché ci sono Situazioni Che vanno Meglio Migliorate Migliorate Definite Però Credo che Questo potrà essere Un anno Importante Per la crescita E soprattutto Per la Programmazione Diciamo il famoso Anno zero Vanno di Ma tanto Viene che il presidente Macchia Se non sbaglio Ci tiene molto Ad entrare nei playoff Con la primavera Perché poi vai a incontrare Un gruppo di squadre Notevoli forti Come adesso la classifica E soprattutto la squadra È un obiettivo fattibile Ma è una squadra Che gioca bene E la cosa che ha sorpreso Già i tempi È un gruppo di ragazzi Di 17-18 anni Che è stato mandato In ritiro Come la prima squadra Ha fatto il percorso L'allenamento La tattica E poi si sta investendo molto Ma poi si vede La mano del tecnico Come per la prima squadra La mano di Raffaele Anche nel campionato Primavera È una squadra Che davvero Ha dei meccanismi Dei sincronismi oleati Giocano È una bella squadra Anche a vedersi Mi auguro Che se il campionato Primavera Dovesse continuare così Con il Palermo Che si giocherà Viviani Ci possa essere Una bella cornice Invitiamo tutti i tifosi A sostenere sempre Il Potenza Primavera È under 15 Under 17 Nelle partite casalinghe Ogni domenica Diciamo che non si può sbagliare Ogni sabato o domenica C'è sempre un under del potenza Che gioca in casa Quella che dà Maggiore soddisfazione È la primavera Però anche sull'under 15 Under 17 Si è avviato un processo Di crescere Under 15 Ho visto un paio di partite Anche lì c'è Un bel lavoro Che sta facendo Nicola Tramuto Under 17 Diciamo Si comincia a vedere Un po' Diciamo mattone dopo mattone Quindi Il settore giovanile In una squadra È fondamentale Parlavamo l'altra sera Con il Presidente Io e Nicola Di quanto ci tenga Anche al discorso giovane Ecco Ha un buon piazzamento Nel campionato Primavera 3 Perché è una vetrina importante Chissà che Fra un po' Al torneo di Viareggio Non ci possa essere Anche Il Presidente Che novità Per il Potenza Ci conta molto Perché poi In questo senso Trovi squadre Di un certo peso E ragazzi Cioè anche Osservatori Chiaramente Di squadre Di un certo livello Cioè Mettersi in mostra È importante Assolutamente Quindi ringraziamo Enzo Non so se ha qualche altra notizia Enzo Niente Io l'unica L'unica nota Negativa Sono Sono le partite Di Foggia Perché il campo Di Foggia Per noi Non è tabù È super tabù Ci vogliamo salutare In modo positivo Invece Ci salutiamo Ma i numeri sono Paolo Sono fatti Li possiamo stravolgere Dai Sono fatti per essere smentiti Diciamo che noi Li dobbiamo Perché su 19 partite a Foggia Ne abbiamo perse 16 Fate il conto No vabbè Questa volta Li batteremo Dai Le altre tre Le altre tre Due pareggi Una vittoria Giusto Due pareggi L'unica vittoria Dell'altro ieri Del 37 38 C'è di appena 80 anni fa Fortunatamente non c'eravamo 80 anni fa Però è dimenticato una cosa Che a Foggia vincimmo lo spareggio col Casarano Quello stavo dicendo L'unica nota lieta fu quello spareggio lì Poi vabbè Due confronti ci sono stati anche in serie B Con il Foggia lì Persi tutti e due Naturalmente E uno in serie B Che pure addirittura Un Foggia potente in serie B Fincetti dobbiamo dire Speriamo che vengano sventiti È arrivato il momento di vincerlo La vittoria nostra è troppo antica Quindi la dobbiamo Dobbiamo spolverare Era un invito ai nostri nonni Dobbiamo togliere le ragnatele dal 2 Dal 2 Dal Foggia potente a 2 Ricordo Nicola se ricordi anche tu Un errore Un errore sbagliato Un gol sbagliato da Contè Sulla linea di Porto Ricordi a Foggia Sotto il settore nostro Era più facile insegnare Ed era la prima di campionato C'erano le C'era Sì sì Era la prima di campionato Proprio gol impossibile Paola il ragazzino Con te era un attaccante di colore E quell'anno Sbagliò un gol A Foggia proprio Eravamo lì Tutti Eh vabbè Sono quelle cose che succedono Però magari Questi errori Le sconfitte Qualcosa prima o poi Deve tornare Qualcosa dovrà cambiare E quindi speriamo che a Foggia Riusciamo a fare questo risultato A sorpresa Poi se vingiamo a Foggia Magari torniamo Torniamo mercoledì Da Foggia Però va bene Non fa niente Allora Enzo ci salutiamo così Speriamo che questi numeri Che ci hai detto Soprattutto quelli sul finale Vengano smentiti Ci salutiamo E sempre Forza Potenza Va bene Grazie Buona serata Buona serata Buona serata Ciao Diciamo che quindi Ci salutiamo Con questa piccola Notamara Perché è un Potenza Che ha vinto Solo uno scontro A Foggia Però Chissà Come hai detto anche tu È un Potenza Che non ha mai vinto E forse è arrivato Il momento Di fare qualcosa In più Sì Soprattutto Io credo Che queste sono partite Prevalentemente Da non perdere Perché mettere punti Anche un punto per volta Vedi come è successo in passato Il Parigi a Messina Poi alla fine Comunque un punto qua Un punto là Li toglie agli avversari Sono punti pesanti Per cui Magari riuscissimo A migliorare il bottino Dell'andata In queste quattro partite Come dicevamo All'andata Prendemmo due punti Col Foggia e Crotoni in casa E poi due sconfitte Con Avellino E Pescara Se riuscissimo A raddoppiare Quel bottino Da due A portarle almeno A quattro Significherebbe Aver fatto Un ottimo risultato In questo Slot di partite Per cui poi Dopo Pescara Potremmo capire meglio Il futuro del potenza In chiave a quel punto O playoff O comunque Di gestione del campionato Dopo tre partite Sette punti A livello psicologico L'autostima aumenta Sì Quindi diciamo Che speriamo Di fare il risultato A Foggia E a Crotoni Perché sono due trasferte fondamentali Ringrazio Mariano e Nicolo E tutti coloro Che ci hanno seguito Nel corso della serata È un Potenza Che affronterà Un Foggia Rinvigorito Da queste due vittorie E questo pareggio Con un Caturano Sempre più uomo squadra E a questo punto Un potentino acquisito Vi lanciamo L'appuntamento Per lunedì prossimo Chi ha perso la diretta La può rivedere Su Facebook Nelle prossime ore O su YouTube Da domani Ai giorni a venire Ringrazio tutti coloro Che sono stati all'ascolto E oggi più che mai In vista di Foggia Forza Potenza Sempre Buona serata Buona serata a tutti Grazie 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 Grazie